Consigliere Pettinari, nei prossimi giorni lei presenterà in consiglio regionale un'interrogazione che riguarda l'ospedale vecchio di Pescara, una particolare problematica accaduta negli ultimi tempi. Di cosa si tratta? Si, si tratta del palazzo Expediatria dove adesso c'è la farmacia Farmacovita e un po' di tempo fa sembrerebbe che questo palazzo sia stato invaso da acqua, fuoriuscita di acqua, non hanno capito qual era il problema, addirittura sono trascorsi diversi mesi, si parla di un anno, un anno e mezzo, quindi l'acqua ha ammalorato tutto il palazzo, ha reso inagibile lo stesso palazzo, quindi danneggiando il patrimonio pubblico e solo dopo due anni hanno scoperto che era una semplice perdita, hanno dovuto riparare la perdita, quindi con ulteriori costi e somme e l'alza è stata costretta a pagare una fattura di 135 mila euro, circa 135 mila euro di acqua. Io ho presentato un'interpellanza, ho predisposto e presenterò tra qualche giorno un'interpellanza al Presidente D'Alfonso, vogliamo sapere se ci siano responsabilità per un danno irrariale, perché qui qualcuno deve pagare, se ci sono responsabili che per inerzia o per negligenza non hanno individuato subito il problema, beh questo problema ha causato un danno gravissimo, ha causato il danneggiamento di una struttura pubblica, ha causato un esborso di denaro che in caso contrario non si sarebbe dovuto sborsare. È una situazione allarmante, pochi ne hanno parlato, credo mai nessuno, noi saremo molto attenti a queste problematiche, andremo sempre a vigilare, a controllare, a verificare che non si sperperino i soldi dei cittadini di Pescale. E vogliamo individuare i responsabili. Io con la mia interpellanza chiedo di sapere se tutto questo corrisponde a verità, quindi di un'analisi attenta da parte della politica, e di individuare i responsabili. I responsabili devono pagare, non devono essere sempre esclusivamente i cittadini a pagare.